Il mio dramma ebbe inizio il 10 ottobre del 1995, mia moglie andava ad aprire e si presentarono i carabinieri della compagnia di Martina Franca, dissero Massaro deve venire con noi, è in arresto. L'accusa era di aver ucciso un mio fraterno amico, suonano la campanella, tutti ascoltarono la sentenza che invece della soluzione andavano a 24 anni di reclusione. Io non sapevo di fare 21 anni, nemmeno la mia famiglia sapeva che aveva fatto 21 anni. La ferita che subisce una persona che è stata vittima di un errore giudiziario non è facilmente rimarginabile. Abbiamo incontrato Angelo Massaro e ci è parso subito un alieno. È come rivedere un film a distanza di 20 anni e tu vedi che tante cose sono cambiate. Il mio padre l'ho conosciuto in carcere perché è stato arrestato quando io avevo 3 anni. In cuor mio mi chiedevo come ricostruirà le relazioni con la moglie, con i figli. Ci siamo lasciati che avevamo 20 anni e ci siamo ritrovati con 20 anni in più. Io sono cambiata, Angelo pure è cambiato. È questo che mi fa rabbia, perché io sono stato contra l'angelo giustamente. Insieme a me ero contra la mia famiglia. Ho una vita in merda. E non per colpa mia, per colpa di chi ha sbagliato.